Stiamo ad approvare una legge di bilancio in cui saranno chiesti sacrifici a tutti Non sanno dove prendere le risorse Si stanno accingendo a mettere le mani nelle tasche degli italiani Dovete sapere che oggi il Ministro delle Finanze e dell'Economia non è un banchiere, un professore, non lo so è un figlio di un pescatore, di un operaio a testo So distinguere chi fa sacrifici e chi li può fare Se qualcuno deve pagare qualcosa in più Pachino i banchieri e non gli operai Siamo contro gli extra profitti Lo Stato non è che decide quando una cosa è un profitto e quando è un extra profitto Di fatto la manovra di Meloni è una dichiarazione di guerra fiscale agli italiani È già stato confermato autorevolmente che non ci saranno nuove imposte Meloni ha una bella faccia tosta Dice che non ha aumentato le tasse E cos'è la doppio bellina sui pannolini? Cosa sono i tagli alla sanità e le pensioni? I tagli delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa a parte dei giovani? E ancora l'intervento adesso sulle accise che addirittura comporterà un aumento del carrello della spesa? Ecco questi sono tagli, sono nuove tasse Ricordo che chi fa la ristrutturazione edilizie è tenuto, obbligato, ad aggiornare anche i dati del pastale Andremo a verificare se li hanno aggiornati o se non li hanno aggiornati Se non li hanno aggiornati si vede che ci saranno più risorse a beneficio anche dei comuni Mentre il governo Meloni e Fratelli Italia lavorano a una legge di bilancio che non banalizzerà famiglie, lavoratori e imprese Elie Schrein propone l'ennesima patrimoniale La solita sinistra tutta, tasse e balzelli nemica di chi lavora e produce Non è un tabù Dunque leggo in queste ore alcune dichiarazioni fantasiose secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini È falso, questo lo facevano i governi di sinistra Ce la ricordiamo tutti Giorgia Meloni davanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise Spieghi ora al paese questa nuova tassa Meloni Perché anche oggi l'abbiamo vista in un video Mentire a viso aperto al paese Non so se essere più preoccupata o stupita di questa sua capacità Tra noi le tasse le abbassiamo come sanno bene i lavoratori dipendenti Le mamme lavoratrici, le partite IVA Allora voglio essere chiara ancora una volta La cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse Buongiorno, buongiorno e buon sabato Allora, una puntata al termine praticamente di una settimana fortemente dominata Quando parliamo ovviamente di questioni domestiche d'Italia Dalle questioni economiche, economico-finanziarie Sapete che il governo ha avuto il via libera del Parlamento al cosiddetto piano strutturale di bilancio Adesso comincia il lungo, difficile e intenso cammino verso la prossima legge di bilancio Che poi è il provvedimento più importante di ogni esecutivo Hanno tenuto a banco in questi giorni alcune parole chiave Ovviamente le tasse, croce e delizia Tutta la questione casa, no? Che è molto delicata per gli italiani I tagli e ancora le misure su cui vuole puntare il governo Considerando che le risorse sono molto poche Che c'è il nuovo patto di stabilità in vigore In funzione del patto di stabilità europeo Che per la procedura di infrazione per deficit eccessivo L'Italia deve trovare molte altre risorse ogni anno Almeno per sette anni Visto che l'intenzione è quella di spalmare tutto questo appunto in sette anni Insomma, la situazione è molto complicata Complicata, lo ha sottolineato il ministro Giorgetti Che ha molto parlato in questi giorni Anche dalla congiuntura internazionale Con, come sapete, due guerre in corso Tutte le incognite che questi conflitti hanno portato E continuano a portare Nonostante, aggiungiamo L'Italia abbia dimostrato Attraverso diversi indicatori in questi mesi Di essere un paese, come si dice, resiliente Diciamo resistente Forse ci capiamo meglio Allora, di tutto questo noi oggi parliamo Con Patrizia De Luise Che saluto Buongiorno Presidente dei Confesercenti Buongiorno a voi Buongiorno a voi Do il bentornato a Angelo De Iana Presidente di Conf Associazioni Buongiorno Saluto Barbara Tibaldi Della Segreteria Nazionale FIOM CGL Quindi i metalmeccanici Buongiorno Buongiorno Buon sabato Buon sabato a Fabio Dragoni Della verità E comincio con te Fabio Allora Polemiche, tensioni Puntuali Alla vigilia di ogni legge di bilancio O c'è dal tuo punto di vista Qualche dettaglio in più questa volta Qualche aspetto diciamo Particolare in più La prima che hai detto Mi verrebbe da dire Anche se Giorgetti gioca a fare il politico Ma in realtà Giorgetti è più un tecnico Che un politico E va riconosciuto Che fra le sue grandi doti Non c'è le doti della comunicazione Diciamo che a comunicazione lascia E hai sistemato Giorgetti Eh la devo dire Per onestà intellettuale Allora Le regole del gioco sono queste Che la spesa al netto degli interessi Nei prossimi sette anni Non può aumentare oltre l'1,5% Sono regole del gioco stupide Cioè per capire abbiamo un vincolo molto stringente Esattamente Sono regole del gioco stupide Ma queste sono le regole del gioco E quindi tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea Hanno deciso di sottostare a queste regole del gioco Che nota bene Se non fosse stato cambiato il patto di stabilità Sarebbero state ancora più penalizzate queste regole Questa è la prima premessa Detto tutto questo Cominciamo a dire che Ci sono Lo ha spiegato molto bene il senatore Garavaglia Alcuni giorni fa In un'audizione al Senato In un discorso al Senato Ci sono i contratti di rinnovo del pubblico impiego La Tebaldi farà finta che non ci siano Ma ci sono E cubano oltre E cubano oltre l'1,5% Quindi c'è una spesa che aumenterà di oltre l'1,5% Anche la spesa sulla sanità Nonostante Tibaldi e tutta la sinistra dica Che questo governo taglia Aumenterà di oltre l'1,5% Allora Se la media deve essere più 1,5% E rinnovi dei contratti pubblici e sanità Vanno oltre l'1,5% E' chiaro che qualcun altro deve restengersi E questi sono i famosi sacrifici Di cui parlava Giorgetti Detto tutto questo Come si sta comportando questo governo? Ma diciamo che fa la sua porca figura Da quando si è insediato questo governo Gli è occupati Sebbene la Tebaldi farà finta che non sia così Sono aumentati di 760 mila unità Mi devo separare di posto Quindi 760 mila posti di lavoro in più Che significa più tasse pagate Più gettito E infatti questo governo Sebbene non aumenti le tasse Riscuote di più in termini di imposte Quindi si sta dimostrando una cosa Abbastanza semplice Allora Adesso darò ovviamente a Barbara Tibaldi Tutte le repliche del caso Prima però Anche perché deve andare in pubblicità Vorrei un flash da Angelo Dejana Che è molto abituato ai numeri Ma soprattutto è abituato a darci anche lo scenario Il contesto un po' diciamo macro Insomma allontanandoci un po' Dalle questioni strettamente domestiche Allora Il governo chiaramente ha un problema Di reperimento di risorse Sia perché siamo entrati nel percorso Del piano strutturale Patto di stabilità Chiamiamolo come era prima Ma anche perché Fra virgolette Deve confermare delle misure Che aveva preso con la legge di bilancio 2024 Quindi taglio del cuneo fiscale Diciamo Aspetta scusami In grandi linee Taglio del cuneo fiscale 10 miliardi Più o meno Tutto quanto Fra i 18 e 20 miliardi Tutto quanto Per confermare solo le misure 2022 Le misure fiscali Esatto Abbassamento dell'IRPEF E via dicendo Poi deve finanziare Un'altra serie di misure E lì chiaramente Fa le sue politiche Redistributive Quindi Da questo punto di vista Le entrate tributarie Gli sono andate molto bene Più 7,5% Non solo Per Diciamo così L'aumento degli occupati Che è pure importantissimo Ma anche perché Ha recuperato evasione Per questo c'è quel numero Nel piano strutturale Di bilancio Per cui la pressione fiscale Aumenta Nel 2025 Perché Anche a parità Di tasse Se tu Hai più occupati Che prendono di più Diciamo Con il rifinanziamento Dei contratti pubblici Ad esempio E' chiaro che Lo Stato fa il fiscal drag Cioè Le persone vanno Su una liquida progressiva Più alta E quindi Lo Stato incassa più soldi Che è un classico Di quando c'è alta inflazione Due Gli sono andate molto bene Perché ha fatto un sacco di soldi Con le partite IVA Su cui è stata recuperata Non solo Evasione Ma su cui Chiaramente Ci sono state Una serie di misure Che hanno consentito Un ampliamento Della platea Di coloro Che pagano di più Allora Si è stato Come sempre Molto sintetica E efficace Adesso Ripartiamo Sia con Barbara Ribaldi Che con Patrizia De Luise Lo faremo Dopo la pubblicità Ci siamo tolti Un piccolo sfizio Insomma Niente di originalissimo Abbiamo chiesto Agli italiani Che ne pensano Delle tasse Dove andrebbero loro A reperire le risorse Che servono Al governo In questo caso Dopo la pubblicità Si dovrebbe pagare In Italia Secondo me Diciamo L'aumentare Le tasse In base Al reddito Sicuramente Ha una sua funzionalità Detto questo Purtroppo Non abbiamo voce In capitolo Perché questo è Quindi Ci arrangiamo E alla fine Tasseranno Come al solito Tasseranno le tasse Per tutti C'è l'inflazione Perché già c'è Penso che dovrebbero Far pagare le tasse A chi ha tanti soldi E li guadagna Forse Non sempre onestamente Questo dovrebbero fare Però nessun governo Lo fa Purtroppo Le tasse Sono state Ingiuste Per il nostro Punto di vista Ma necessarie Per lo Stato Quindi Diciamo che È la gestione Che andrebbe Rivista La nostra università Ad esempio Va a reddito Quindi C'è come Magari Chi come i miei genitori Lavora E quindi Si guadagna le cose In maniera onesto Cioè Per uno scherzo Del destino Devono pagare anche di più Di che magari Non è così Capito Purtroppo Ricade Sul contribuente Qualsiasi tipo Di manovra economica Forse Dovebbero fare Dettagli al governo Tipo Abbiamo un sacco Di senatori Che non frequentano Che non Da anni E sono a carico nostro Le megapensioni Che prendono loro Forse potrebbero Mettersi anche A vedere A fare un taglio Su se stessi Che la regola Sia sempre La stessa Bisogna pagare In ragione Dei propri guadagni In maniera proporzionale Con un senso di equità Fare come l'America Nel senso che in America C'è un sistema Non so Come funziona C'è un sistema Che incrocia tutti i dati Del reddito Quello che spendi Quello che non spendi Quello che Insomma Il reddito che hai E poi Le tasse le devi pagare Obbligatoriamente Non c'è un modo Per eludere O diciamo No per non pagarle Diciamo che lì Se non le paghi Ti vengono a bussare a casa E ti vengono a chiappare Il super bonus E E l'altro Come si chiama Quell'altro pagamento La sovvenzione data Certo non quello Quello è proprio da sfidere Perché ci ha massacrato Dovrebbero pagare le banche Che guadagnano miliardi Le banche Le banche E ma poi Non si rivalgono Sui conti Sui correntisti Già Sono rivalsi Quindi Non cambierebbe No Già hanno aumentato Non è il problema Da adesso Ma da quando Si usa il post Non ne vado Neanche noi Quindi le tasse Le paghiamo tutte Anche noi Però secondo me Ci sono sì Alcune categorie Che magari Riescono un po' più A levare Adesso Comunque mi capita Anche a volte Anche con medici Studi medici Dove non Magari non fanno La fattura Ah questa è una domanda Un po' troppo complessa In un momento così Di spesa E di attività quotidiane Immagino che le tasse Debbano pagare tutti In maniera proporzionale Alla propria capacità Di reddito Allora Vado da Barbara Di Baldi Sentiamo prima La parte Diciamo Dei lavoratori Dei sindacati Poi sentiremo Le imprese Che cos'è Che non vi torna Così Parto Light Così Lei mi può dire Un po' Ma intanto Menomale che avete Mandato il servizio Perché fino a prima Del servizio Il buon senso Di quelle persone Da quelle che hanno 20 anni Fino a quelle che Ne erano 60 Sembrava fosse Colpa nostra Di tutto sto Pasticcio Allora Mancano i soldi Sono state redatte Regole Che non van bene Che preparano L'austerità Europa Qui si riferisce L'Europa E sono state Avvallate dai governi E oggi si pianifica Per sette anni Tagli A quel punto Puoi fare due cose O recuperi i soldi Con maggiori entrate Oppure tagli E qua si dice Tagli Ora Io sono stata abituata Come sindacalista Una regola basica Che vale per ogni sindacalista Se entri in una fabbrica E dici che è bianco Sai che lì dopo 20 giorni Devi tornare E se non torni Sostenendo che è ancora bianco I lavoratori Ti fanno pagare Un piccolo prezzo Te lo segnalano Mi piacerebbe Che la stessa caratteristica La collezione La imparassero i ministri Di questo paese Perché è fantastico Giorgetti Appontida Fantastico Peccato che da Palazzo Chigi Sia lui Che è il suo segretario Di partito Poi ti dicono No no Sacrifici Oppure Le tasse Chi le può pagare Le banche Lo faranno spontaneamente Peccato che Il maggior introito Deriva dalle tasse Che i lavoratori E i pensionati Pagano a monte Pagano a monte Allora Dato che noi abbiamo Garantito più risorse Perché non ce le ridanno Perché dico con Come dire Simpatia Al dottor Dragoni Ma Oh ci manca ancora Hanno messo via i soldi Per rinnovare Il contratto di medici Infermieri Vi ricordate Gli angeli del covid Loro hanno perso Il 17% Negli ultimi due anni Di potere d'acquisto Con l'inflazione Hanno messo I soldi Per il 6 Vuol dire Che noi dovremmo Firmargli Un rinnovo contrattuale Che gli riduce Gli stipendi Di due terzi In un momento In cui Le liste d'attese Cosa ti succede In un pronto soccorso Sono anche determinate Dal fatto che Non solo Non c'è abbastanza personale Ma chi c'è Scappa Allora Che vogliamo far Posso farle Una domanda diretta No Certo Le due misure Diciamo Su cui il governo Insiste molto Il rinnovo Del taglio Del cuneo fiscale Ho visto che qualche ministro Si è spinto a dire Diventerà strutturale Poi vedremo Perché ci vogliono Molte risorse E poi il riordino Delle aliquote IRPEF E quindi anche lì C'è un costo Credo di 4-5 miliardi Credo Adesso guardo Dejana Che i numeri Li conosce Stando a queste misure Intanto queste misure Le condivide o no? Assolutamente Sì Noi abbiamo chiesto Il rinnovo Del cuneo fiscale Perché? Perché ce lo tiriamo Dietro da anni Cioè ci stanno rivendendo Il colosseo Dai tempi di Draghi Capisce? Non prima Perché c'erano ancora Le una tantum Le ha fatte a Conte Le ha fatte persino Renzi Che non lo si può Neanche nominare Ma è così Cioè i lavoratori E i pensionati Hanno in busta 100 euro in più Da anni Ogni anno Il governo che arriva Dice Ti do i soldi Ti danno sempre Gli stessi 100 Non li levano perché? Perché se levassero 100 euro Dalla busta I lavoratori Come dire Si disvelerebbe Uno dei trucchetti Che ci sono Ma Se va bene Su di noi Valgono Pochissimo Questo mi è chiaro Ma se va bene Per lei Il taglio del cuneo fiscale E il riordino Diciamo fiscale Cercando di favorire Solo il taglio del cuneo Solo il taglio del cuneo Certo Poi lei dice Lo diceva prima È un grandissimo tema La sanità Certo Secondo lei Allora il governo Dal suo punto di vista Se potesse oggi fare Lei la legge di bilancio Dove troverebbe Le risorse per la sanità? Da dove le prenderebbe? Le ho detto la scuola Io farei quello Che dichiarò Pontida Andasse a Pontida E cioè Si Un lavoratore Metalmeccanico Paga il triplo Delle tasse Sul valore Che lui determina Producendo Di chi incassa Quel reddito Allora Profitti Estraprofitti Rendite Vanno Tassate Lì bisogna prendere i soldi Oltre che dai 90 miliardi Di evasione fiscale E quello è il capito L'avete vista la ragazzina Di 20 anni L'ha detto Con una spontaneità incredibile Dovrebbero essere progressive Ma quando mai Sono progressive In questo paese? Paga Come si diceva una volta Pantalone Perché è più facile Lo paghi alla fonte Ma andare a recuperare i soldi Dove ci sono stati molti guadagni O dove si evade Non si fa Anzi Quanti condoni hanno fatto? 22? 23? È quasi un insulto Sentiamo Patrizia De Luise Intanto Cosa condivide? Se condivide Del discorso Di Barbara Tibaldi Io parto Da quello che abbiamo ascoltato Ha fatto benissimo Quel servizio Interessante E da lì Voglio dire Le persone Della strada Sono i nostri clienti Quelli che noi abbiamo Nei nostri negozi Ogni giorno Questi discorsi Li sentiamo fare sempre Sicuramente Gestire il bilancio Di uno Stato Ti dicono È più complicato Che gestire Quello di una famiglia Ma quando le entrate Sono inferiori Alle uscite Devi cominciare A mettere le mani dentro Allora Adesso È il momento Di fare questo Voglio dire Abbiamo un debito Pubblico altissimo C'è questa programmazione Per sette anni Di andare a capire Come ci si muove Partiamo comunque Dalla vita di ogni giorno I consumi interni Sono quelli Che sono importanti Per il nostro PIL Per tutti i conti Dello Stato E questi langono Perché? Perché le famiglie E lo vediamo Giornalmente Nei negozi Non è uscito fuori Esplicitamente Abbiamo un osservatorio Concreto Tutti i giorni Le persone Spendono di più Per comprare meno Quindi Si sono ridotti I volumi d'affari Vuol dire che La capacità di spesa Delle famiglie È diminuita Paghiamo Un'inflazione alta Che sappiamo tutti Da dove arriva Un'inflazione Che si è Ripercossa Sulle spalle Delle imprese Che io rappresento Quando parlo di imprese Parlo di queste attività Di prossimità Di vicinato Dei negozi Che troviamo Fuori dal portone Di caso Ognuno di noi Ogni giorno Quindi Le famiglie Dicevo Si sono trovati A pagare A pagare di più Perché L'inflazione Il caro energia Ha fatto aumentare Le materie prime E tant'è vero Che si sono ridotti Le vendite Dei prodotti alimentari Per esempio E in più Si sono trovati Cornuti e mazziati Direi A dover pagare Degli interessi Sui mutui Perché Abbiamo avuto Anche quel problema lì Allora A questo punto È necessario Avere Questa non è una cosa Che spetta a noi Come Io rappresento Un mondo E ti dico Qual è il problema Ti dico Che è un problema Grave Ci sono mille cose Su cui intervenire Quando Ripeto Le entrate Sono inferiori Alle uscite Bisogna andare a capire Dove si può Risparmiare Ma risparmiare Non andando a incidere Sui servizi Principali La sanità Guardate La sanità È un problema Fortissimo Perché va Oltre a non dare Sicurezza ai cittadini Per cui Vengono tassati Per avere quel servizio Non dimentichiamocelo Ma va anche a erodere La capacità Delle famiglie di spesa Quindi È un cerchio vizioso C'è da fare Una bella lotta All'illusione All'evasione fiscale Ma l'illusione fiscale Perché c'è E quindi lì Si possono reperire Dei soldi Chiudo Ne stanno parlando Ma non è sufficiente Parlarne Abbiamo un problema Enorme Per noi Che è di una concorrenza Sleale Che è quella Delle grandi piattaforme Del web Non è il problema Delle vendite No Perché il mondo va avanti Ci sono strumenti nuovi Noi stessi li usiamo Ma il problema Di far pagare le tasse Noi abbiamo Un problema Di evasione E di illusione Fiscale lì fortissimo Vi do un esempio Nel 2022 Dalla web tax Abbiamo Aspettate che vi do Il numero esatto Perché non voglio Dare numeri sbagliati Abbiamo L'erario Si è trovato 390 milioni Versati Dalla web tax Le attività Di prossimità Hanno versato 7,7 miliardi Di imposte Allora Questo è un ragionamento Io credo che Concluda Quanto è stato detto Dalle persone Un ragionamento Molto semplice Di buon senso Abbiamo bisogno Adesso Non domani Non fra sette anni Adesso Di applicare Il buon senso Tutte queste vostre Prime riflessioni Mi permetto di aprire Una serie di capitoli Intanto Chiedo Poi mi risponda Chi vuole Ma vado Riparto Da Angelo Dejana Prima veniva Sottolineato Il fatto Dell'alta Inflazione E del potere D'acquisto Degli italiani Che si è ridotto Adesso L'inflazione Sta tornando Piano piano In quelli Che sono I parametri Fissati anche Dalla banca Centrale europea Io Sono Una persona Che per esempio Quando può Va a fare La spesa Spesso Parliamo Di generi Alimentari Ma io Trovo ancora Una speculazione Sui prodotti L'inflazione È scesa Ma i prodotti I costi di questi prodotti I prezzi Non sono scesi C'è qualcosa Che non quadra Quello è il cosiddetto Carrello della spesa È un capito Il carrello della spesa È quello che Scende molto meno Rapidamente Di tutti Di tutti gli altri Diciamo così Elementi Che vengono Attivati In processo Di inflazione Ma lì Il problema Adesso Più o meno Scenderanno Ma quando è Che scenderanno Quando la banca Centrale europea Inizierà A calare Decisamente E non Prudentemente Come ha fatto Fino adesso Abbassato solo Di 0,25 I tassi di interesse Noi ci dobbiamo ricordare Che noi abbiamo subito Il più violento Rialzo dei tassi Che le serie storiche Abbiano mai conosciuto BCE Fed Bank of England Tutte quante Hanno fatto questo Perché? Perché l'inflazione Era una cosa Che non vedevamo Dagli anni 80 Ci siamo spaventati L'abbiamo Sottostimata All'inizio Pensavamo Fosse soltanto Diciamo così La fiammata La fiammata Post pandemica E invece Abbiamo visto Che l'inflazione Che è una tassa Sui poveri Perché i ricchi Possono scegliere Come riallocare Le risorse Mentre i poveri Il carrello Della spesa Lo devono riempire Quindi Abbiamo Diciamo così Rialzato così Violentemente i tassi Ed è chiaro Che adesso Ne stiamo pagando Lo scotto Sia in termini Di trasmissione Speculazione Sui prezzi Di un pezzo Di quell'aumento Dei tassi Perché quello Fanno Tutti quanti Dalle grandi banche Ai piccoli professionisti Diciamolo quello Anche chiaramente Se ti aumenta Il mutuo Tu scarichi Sul cliente finale Un pezzo Di quel costo Detto proprio In termini brutali E due Ci abbiamo anche Un problema Di Chiamiamola così Attenzione Al sistema Delle risorse Complessive Perché Perché la banca Centrale europea In questo momento Sta vendendo 3-4 miliardi Al mese Di BTP Che si era presa In pancia Durante il periodo Pandemico E questo è un problema E però È un problema Che ha una soluzione Fra virgolette Che è quella Di tenere i conti In ordine E soprattutto Chiudo Forse Con un budget Di bilancio Di quasi 1200 miliardi Di euro È vero Che si dice Sempre Ma tirar fuori 10 miliardi Di euro Di tagli Forse si potrebbe fare Parliamo della sanità La sanità È un problema Ma è anche vero Che noi abbiamo Un mare Di regioni Commissariate In sanità E dentro Quel fondo Sanitario nazionale Che se non mi ricordo È 136 138 miliardi 34 sono Di spesa farmaceutica Cioè Quel complesso Lì Andrebbe Analizzato Col bisturi Anche lì Si potrebbero fare Secondo me Dei riposizionamenti Strategici In ogni caso Come veniva giustamente Ricordato Dalla collega Il problema È che se non c'hai Entrate Devi tagliare le spese No Se Fabio Pure lui va in giro Quando fa la spesa E nota quello Che ho notato io Perché Dice Deiana Finché la banca centrale europea In maniera molto più netta Non batterà giù I tassi di interesse Sì Però se noi vediamo La percentuale Dell'inflazione In questo momento È tornata quasi A dove deve stare Allora uno si chiede Sì I costi dell'energia Sono sensibilmente calati Ma uno Se ne accorge guardando Le proprie bollette Non è che deve Guardare grandi analisi Però Però Se l'inflazione Diminuisce Dall'8 al 2% Non vuol dire Che i prezzi diminuiscono Vuol dire Che smettono Di crescere E soprattutto Non esiste Che i prezzi diminuiscono Perché nel momento In cui vediamo I prezzi diminuire Vuol dire Che siamo Nella depressione Quindi devono aumentare I salari Ora Apro un capitolo Perché Va aperto Questo capitolo Perché siccome Qual è? Il capitolo Della narrazione Che lo Stato Deve essere gestito Come un'impresa O come una famiglia Ronald Reagan Che non è propriamente Un keynesiano Una volta Un giornalista Dice Ma lei non è così Preoccupato Per il debito pubblico Ronald Reagan Gli rispose Il debito pubblico È talmente grande Che sa badare a se stesso Allora Fatta questa premessa Prima del covid Il nostro Stato Aveva un deficit Di 20-30 miliardi E voi ricorderete Le polemiche Salvini I mercati Insegneranno L'Italia A come votare Quindi sembrava Che lo spread Ecco Con il covid Succede Che il deficit Dell'Italia Passa magicamente Da 20 miliardi A 150 miliardi Cos'è successo? Nulla Nulla Esattamente nulla È andato in bancarotta Lo Stato? No Non è andato in bancarotta Perché? Perché molto banalmente C'era la banca centrale europea Che sottoscriveva Cioè stampava denaro Quindi Prima considerazione Molti dei problemi Che noi ci poniamo In questo momento Sono problemi Autoindotti Autoindotti Da una serie Di regole Economiche Che abbiamo Solo in Europa Cioè Se voi andate Negli Stati Uniti Mica penserete Che facciano Queste discussioni lunari Sull'1,5% Ma che ci sia Biden O che ci sia Trump Ma lo stesso avviene In Giappone Ma lo stesso avviene In Gran Bretagna Questo problema Lo abbiamo noi Perché abbiamo 20 stati Che si sono Monetariamente Castrati E hanno detto Noi facciamo a meno Di stampare la moneta Monetariamente Castrati Chi è che decide La stampa della moneta La decide Un signore Che non viene eletto Ecco Bene Quindi questa è La sintesi Fammi sottolineare Un secondo aspetto Quando si parla di tasse La risposta è La risposta è sempre Le tasse sono troppe Le tasse le pagano tutti Ma soprattutto Le tasse le devono pagare Gli altri Perché sicuramente Chiunque pensa Che le tasse Le devono pagare Gli altri La Tibaldi Cosa ti dice la Tibaldi Le tasse le pagano solo I dipendenti Non le pagano Gli imprenditori Brutti e cattivi Allora I dipendenti In Italia Dipendenti e pensionati Pagano L'83% Delle imposte Che è tanto Fatto 100 Il montante Delle imposte L'83% Le pagano Dipendenti E pensionati Però dipendenti E pensionati Sono il 90% Della popolazione Cioè quindi C'è Gli imprenditori Brutti e cattivi Che sono Il 10% Della popolazione Pagano Il 17% Delle imposte Allora Abbandoniamo Anche Il La narrazione Che Ah L'imprenditore Che dichiara Meno Del dipendente Sì L'imprenditore Dichiara Meno Del dipendente Perché spesso E volentieri L'imprenditore Guadagna Meno Del dipendente E non Perché ruba Perché effettivamente Guadagna meno Perché tirare avanti La carretta È complicato Anche per gli imprenditori È complicato Per noi consumatori Quando andiamo A fare la spesa E concludo Dicendo Devono Aumentare I salari Punto Quindi Guarda Mi vesto Mi metto Il Il fazzoletto Rosso Della CGL Devono Aumentare I salari Devono Aumentare I salari Non possono Diminuire I prezzi E per far questo Bisogna cominciare Dalle tasse Vuole dare Un piccolo flash Perché volevo Introdurre Un altro Piccolissimo Perché Van bene I pallotolieri Però Calma Che ha detto Di sbagliare Ha fatto un ragionamento In cui Che funziona Se tutti pagassimo 10 euro Il punto È quante tasse paghi Cioè il principio Di progressività Abbiamo parlato Di un'inflazione Che è stata Determinata Dai profitti Che i poveri Che guadagnano Meno dei lavoratori Hanno fatto Negli anni Quindi è cosa evidente Che quella progressività Cioè Io pago Nella misura In cui ho E progressivamente Più ho E più pago Questo è nella Costituzione Ma perché Bestemmiare in chiesa Dirlo Ma santa pazienza Si chiede solo Un patto sociale Ma la potrei dire così Se funzionano Se sono questo Se no Ognuno dice Che deve pagare là Adesso arriviamo a questo No Diciamo Mi verrebbe da dire Ognuno paga In funzione Del proprio reddito Quindi la progressività Come da Costituzione Però poi Quando si arriva A un certo tetto Uno dice Il mio socio occulto È lo Stato Che prende più del 50% Di quello che guadagno E io Così arrivo a quello Che volevo dire E allora Lì Che servizi Mi dà lo Stato Per le tasse Che io pago Poche o molte Che siano Questo è un altro Discorso Che io volevo sollevare Su cui vorrei sentirvi Citando dei casi Specifici Alcune delle cose Ce le avete dette Lo facciamo Dopo la pubblicità Anno 2007 Intervistato Da Lucia Annunziata L'allora Ministro dell'Economia Padova Schioppa Dice Il recupero Il recupero Dell'evasione fiscale Deve continuare Solo che deve essere Ormai in via Pressoché esclusiva Destinata Restituire ai contribuenti Quello che viene Recuperato Poi Allarga il discorso La polemica Antitasse E irresponsabile Dovremmo avere Il coraggio Di dire Che le tasse Sono una cosa Bellissima E civilissima Un modo Di contribuire Tutti insieme A beni indispensabili Come la salute La sicurezza L'istruzione E l'ambiente Famose Queste parole Su cui si è poi Scatenata La contrapposizione Politica Le ho citate Perché Poi ognuno La può pensare Come preferisce Quello che Fa molto irritare E uso Un eufemismo E vedersi Sottrarre Giustamente Civilmente Per quello che dice La Costituzione Una parte Delle nostre Entrate Del nostro reddito Per dei servizi Che spesso Non sono All'altezza E uso un altro Eufemismo L'altro giorno Giuseppe Roma Che ha lavorato Tanto Nel Censis Nel Censis Se mi pare Ha detto Ha fatto tre esempi Previdenza Sanità E ferrovie Pagare le tasse Con la prospettiva Di una generosa pensione È stato per decenni Il sogno Di molti italiani onesti Alla fine Il giocattolo Si è rotto E le prospettive Oggi sono ben diverse Abbiamo costruito Qui parla di sanità Un servizio sanitario Nazionale per tutti Gratuito Di buona qualità E per alcuni decenni La sanità pubblica È stata un riferimento Rassicurante Per i cittadini Ma ora Non è più così Infine Fa un terzo esempio Finalmente Con l'alta velocità Ferroviaria Gran parte del paese Ha potuto muoversi Con facilità E comodità Ma anche questo servizio collettivo Sembra essersi inceppato Un'altra delusione Che rende i contribuenti Piuttosto nervosi Pagare le tasse Dovere civico È base della democrazia Ma è illegittimo Chiedere Proprio appunto Mentre si discute Di legge di bilancio Di tasse Eccetera Che il gettito fiscale Venga utilizzato In modo trasparente Ed efficiente Per i beni comuni Per i servizi Di carattere collettivo E per le infrastrutture Di sistema Certo Io credo che questa sia Un'altra delle componenti Psicologiche Per cui spesso si dice Che gli italiani Non sono così Ben disposti A pagare le tasse Sbaglio? O no? È un discorso Che ha basi Di ragionamento Fortissime E che però Si scontra Con che cosa? Con Una Relativa inefficienza Vogliamo essere eleganti Della pubblica amministrazione Soprattutto A livello locale Primo tema E soprattutto Si scontra Lasciamelo dire Andrea Con la mancanza Di concorrenza Questo è un paese Senza concorrenza Io faccio sempre Due esempi Telefonia mobile E alta velocità Se ci fosse stato Soltanto un monopolista Noi non avremmo avuto Il calo dei prezzi Della telefonia Evidente Della telefonia E anche dell'alta velocità Adesso sono aumentati Anche lì Sono riaumentati Però comunque Rispetto a prima E in realtà Noi in questo paese Abbiamo invece Un alto livello di tassazione Distribuito Su una platea piccola Perché al di là del fatto Che siano dipendenti E pensionati Quelli che pagano di più Sono quelli che guadagnano Fino a 50 mila euro Quindi quello è un problema grosso Abbiamo un problema Di inflazione Che ha abbattuto Il potere reale D'acquisto E quindi Questo connubio Rende questo momento Io per esempio Fossi stata All'Europa Avrei Rilanciato in avanti Il tema del patto di stabilità Almeno alla fine del PNRR Hai fatto una manovra Straordinaria Con il PNRR Post pandemica Riprendi con quelle regole Quando gli investimenti Fatti col PNRR Vengono messi a terra E producono reddito Alla tua ragionamento E che ci sono Due guerre in corso In particolare per l'Europa La guerra russo-ucraina Ci si chiede La Nato ci chiede Di aumentare A tutti i paesi Le spese per la difesa Tanto che il ministro Crosetto Ma non solo lui E' in pressing E dicendo Dobbiamo scomputare Queste spese per la difesa Dal patto Mi pare che l'Europa Non ci senta E quindi ci sono anche Dei problemi congiunturali in più Assolutamente Dico solo un'ultima Reabilissima cosa Che però Siamo solidi In questo Diciamo così Atterraggio Che stiamo facendo Dalla bonus economy Che era insostenibile Nel lungo periodo Noi siamo stati alimentati Da anni di bonus economy Non poteva essere Un pezzo dell'inflazione Provocata anche Da questa stampa continua Che le grandi banche centrali Hanno fatto Sia pre-pandemica Sia nel periodo pandemico Però noi abbiamo Ancora 128 di spread Che è uno spread basso Se noi fossi Non fossimo solidi E a chi dà il merito? Di questo spread Dal fatto che Al governo Meloni? No A tutti i governi Che si sono Progressivamente Dal governo Draghi In poi Succeduti Che hanno tenuto I conti in ordine Se tu tieni I conti in ordine Quel pezzo di debito Che i mercati internazionali Ti devono comprare Se lo comprare Se lo comprare Se lo comprare lo più sicuro Con buona pace Rispetto a quello Che hai appena detto Di Fabio Dragoni Ieri Giorgetti Intervenendo Credo A un'iniziativa Di Fratelli d'Italia Ha detto Il piano strutturale Di bilancio Porterà l'Italia A navigare In acque sicure E invece Lì si diceva Porterà austerity Lui dice Questo probabilmente È legato Allo spread Che viaggia a passo Posso fare un'osservazione Sì come no Questo piano Di austerity Ci porta a sbattere Perché Perché Sette anni di tagli Oltre a Introdurre elementi Oggettivamente ingiusti Cioè Chi ha pagato le tasse Dovrebbe avere un ritorno Poter andare a fare Un'ecografia Sì Non c'è dubbio Nei tempi Legittimi Ma c'è un altro tema Che se Nei tanti dati positivi Che sono sicura Che Dragoni Riproporrà Ce n'è uno Di cui nessuno si preoccupa Quale? 18 mesi di crollo Della produzione industriale Sì Allora Un governo Che deve fare Soprattutto In un'economia di guerra Dove siamo Deve utilizzare Risorse e pianificazione Altro che Libero mercato Noi dobbiamo avere idea Che i settori strategici Del nostro paese Li rafforziamo Invece noi abbiamo L'industria del paese Che va via Chi rimane Fa disastri Come Tavares Con Stellantis Che non ci porta le macchine Infatti il 18 Saremo in sciopero In tutto il paese Ma ai settori Come l'elettrodomestico La siderurgia Il grosso della manifattura Che si smontano Dopo aver tagliato Per due o tre anni Che la gente vive peggio Che non si può curare E quando cominceranno A partire i posti di lavoro Che cosa fai? Come proteggi Il futuro di questo paese? Posso rispetto a queste sue Istanze Diciamo così Sentire subito Una risposta da Dragoni Poi devo farvi vedere Ti chiedo una cosa sintetica Devo farvi vedere una cosa Che si incrocia A tanti discorsi Che abbiamo fatto Allora Che ci sia un crollo Della produzione industriale Una diminuzione È evidente Ma non potrebbe essere Altrimenti Perché noi siamo legati A doppio filo Con la Germania E la Germania In questo momento Ricordo a tutti Farà nel 2024 Meno 0,2% Noi facciamo Più 0,8% Io non sono affatto Meravigliato Del fatto Che lo spread Dell'Italia Sia basso Ma non perché Che i conti Siano in ordine Sì Sicuramente I conti Molto banalmente Perché tutti Stanno cominciando A comprendere Che l'economia italiana È stata pesantemente Sottovalutata In tutti questi anni Pesantemente Sottovalutata Da una narrazione Lasciami dire Farlocca Posso dire una cosa E quella tedesca È stata sopravvalutata Voglio aggiungere Volutamente Diciamo che ci sono Alcune situazioni economiche Che sono sopravvalutate Una ad esempio È la Francia Cioè Anche la Spagna Che sta inguaiata Non esiste al mondo Non esiste al mondo Che la Spagna Paghi di meno Dell'Italia Sul debito E fra poco Se ne accorgeranno tutti Così come non esiste al mondo Che la Francia Paghi di meno Dell'Italia Perché la Francia Ha due debiti Un debito pubblico Il deficit Ma ha un debito Con l'estero Mentre l'Italia È un paese Che esporta È creditore Nei confronti Dell'estero Quindi Quando Anche gli Analisti Invece che Ad ascoltare La solita Narlazione Farlocca Dell'Italia Dello spread Cominceranno a capire Stanno cominciando a capirlo Che l'Italia È tutto sommato Un'economia Relativamente solida Che ha una sua Stabilità politica Perché c'è una stabilità politica Cioè Non ci sono alternative A questo governo Mentre in Francia Va bene Abbiamo una situazione Economica pessima E un governo Che sta in piedi Col vento a favore Perché forse Lo tiene in piedi Marine Le Pen Che era quella Che aveva perso Ma Secondo come Siccome Marine Le Pen Era quella Che aveva perso Lo tiene forse In piedi lei Forse sì Forse no Quindi Tutti cominciano a dire Ma tutto sommato L'Italia Ha dei buoni Fondamentali È questo Che rende Il titolo Del debito pubblico Appetibile Allora Si diceva Manca una politica Industriale Prima La Presidente De Luise Diceva Ho sbagliato No Manca una prospettiva Sul futuro Che è il dovere Della politica Se no Metteremo 5 ragioni Prima La Presidente De Luise Ha accennato All'e-commerce Ai grandi No Ai big tech Chiamiamole così Per capirci Però Giorgia Meloni Il governo Giorgia Meloni In particolare Ha molto Intensificato I rapporti Proprio Con i capi I padroni Verrebbe da dire Con un linguaggio vecchio Delle big tech Di grandi aziende Multinazionali Per che cosa? Per convincerli A investire In Italia Vediamo Big tech Big tech Big fish Concetto un po' forzato Ma trovare pesci Più grossi Delle multinazionali Della tecnologia È impossibile I loro software I loro prodotti I loro invenzioni Orientano le nostre vite E per farlo Ci guadagnano tantissimo Miliardi e miliardi Probabilmente troppi Ecco perché L'idea di tassarle È ricorrente Ciclica Come l'economia C'è bisogno Di risorse Dove cercarle Se non dai pesci grossi In fondo È moralmente sensato Se qualcuno Deve pagare Più tasse Che tocchi a loro Ai giganti Mondiali Della tecnologia Perché mai vessare L'azienda Italia Già in affanno da sé Le big tech Pagano un decimo Di quello che Pagano le imprese normali Non è giusto Ha detto Antonio Tajani Leader di Forza Italia Ma anche Ministro degli esteri Qualifica Che non è un dettaglio Visto che le implicazioni Internazionali Non mancheranno E così Mentre si cerca Un accordo Con banche Assicurazioni Colossi di energia Difesa Insomma Con le big italian Il titolo Extra profitti Si potrebbe davvero Arricchire Spingendo le multinazionali A contribuire Alla definizione Delle risorse Necessarie Alla manovra Spingendole Cortesemente O no Dipende La diplomazia Economica Di Palazzo Chigi È stata ultimamente Attivissima Le dorate stanze Del governo Sono state elettrizzate Da Elon Musk Patron di Tesla Che vale quasi un miliardo Da Brad Smith Presidente di Microsoft Una delle regine Di Wall Street Da Larry Fink Cofondatore di BlackRock 10.000 miliardi Di dollari Di asset E poi gli incontri Con i leader Di Google Motorola Open AI Chiedere investimenti Apertura di fabbriche Acquisti di società Statali partecipate Per poi tassarli Possibile Perché no Spalancare le porte Del nostro paese A pesci così grossi Assicurerebbe altri Grandi profitti Lasciarne qualcuno All'erario Non sarebbe poi un male Fantapolitica Però c'è almeno Una riflessione da fare Dopo aver detto Per anni il contrario Giorgia Meloni Da premier Ha capito Che non l'invasione Ma il peso Della finanza privata Nelle pubbliche strategie È fondamentale Forse anche perché Tutta quella spinta al PIL Che ci si attendeva Dal piano nazionale di ripresa Dal taumaturgico PNRR O ritarda o non si è vista Quindi Serve correre ai ripari Da qui al dire Che stringi stringi Il taglio del cuneo Lo pagherebbero le big tech Ce ne vuole Fantasia anche questa Ma il motto Chi più ne ha Più ne metta In combe Tutto sommato Sarebbe sempre meglio Di una patrimoniale O di un prelievo forzoso Sicuramente Il mondo dei pesci piccoli Preferisce Pensarla così Vuole dire qualcosa De Luise Perché poi Questo servizio Diciamo Richiama il fatto Che c'è grande attivismo In questo senso Per attrarre investimenti Ma c'è tutta la questione Che riguarda La web tax Cosiddetta Che è stata richiamata Dici soldi Cerchiamo di prendere Dari grandi multinazionali Ma mi pare Che sia un esercizio Difficilissimo Sì È un problema Di geopolitica Lo sappiamo tutti La diplomazia commerciale Veniva detto bene lì Però è un problema Che c'è È un problema Che c'è Perché comunque Questo è Un consumo Del nostro territorio Un'invasione Nel territorio Una concorrenza Che va bene Non è questo il problema Il problema è quello Del dumping fiscale Che non solo Ce l'abbiamo Con il big tech Al di fuori Dell'Europa Ma c'è anche All'interno dell'Europa Questo problema E che va affrontato Perché come si diceva prima Rispetto alla tassazione I servizi Che ci vengono dati Questo è un grande problema Non solo Perché giustamente Fa incavolare Si paga E non si ha E non ho il ritorno La sanità Poi è un problema Ma quello della scuola Lo sappiamo tutti Come è versa La nostra scuola La qualità Come vengono pagati I professori Che hanno in mano Gli insegnanti Che hanno in mano La formazione Del domani Di tutti noi Dei cittadini di domani E quindi il futuro Di tutti noi I trasporti I trasporti Si è detta questa cosa Ma guardate Che quella dei trasporti È un problema Enorme Perché incide anche Sulla capacità Produttiva Del nostro paese Sappiamo tutti Quanto ci vuole D'andare Da un punto all'altro Allora se ti muovi Da Roma Bene o male Ma già se vai Sulla costa triatica Cominci a avere Il problema Quindi Non solo sono Investimenti Perché rendi Qualcosa A chi paga le tasse Per ottenere Quei servizi Ma sono anche Investimenti Che servono Per la produttività Del paese Per essere competitivi Per mettere Le nostre imprese In grado Di essere competitive Con i competitor Degli altri stati Posso fare No Aspetta Apro la discussione A tutti Ma ho una questione Di tempi Devo andare a Palo Sottocorola Così ci racconta Questo meraviglioso Weekend Ridi eh Com'è? No Meraviglioso certo Rispetto a alcuni Che abbiamo passato E quindi sì C'è il rischio Di un po' Di grigio Di qualche piovigine Questo c'è Soprattutto al nord L'alta Lombardia Oggi potrebbe avere Qualche precipitazione Moderata Certo Rispetto Insomma Agli scossoni Che ci sono stati È ben poco Poi domani Domenica Ancora meno Di queste nuvole Di queste piovigine Quindi sicuramente Buono Lunedì Più o meno Si ricalca La situazione Insomma Finché Il rischio È quello Di un cielo grigio Con quattro Gocce Di piovigine Neanche di pioggia Insomma È un buon fine settimana Almeno possiamo Definirlo così Grazie Paolo Anche per l'estrema sintesi Ci godremo Comunque Questo weekend Vado in pubblicità Poi Sentiamo tutti Altri nostri ospiti E poi A proposito Di big tech Insomma Di giganti mondiali Cercheremo di dire Una cosa in più Che non riguarda Soltanto L'aspetto economico Ma anche L'aspetto Diciamo Della democrazia A dopo Allora C'era Fabio Tragoni Vuole dire qualcosa Io però Ti La domanda Che vorrei farti E questa Fa bene Giorgia Meloni A cercare questo tipo Di investimenti Per l'Italia Assolutamente Sì La domanda Casca a fagiolo Perché I pesci grossi Sono grossi Ma non sono tutti uguali Cioè Ci sono le balene E ci sono i pesce cani E non hanno lo stesso grado Sono delle balene Ok Perché 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 fanno degli investimenti fisici In Italia Cosa ben diversa È Amazon Amazon È una cosa Molto diversa Perché Amazon Lo dico sinceramente È comodissima Io cerco l'anello Per la tenda Anche in Italia Anche in Italia Ha dei siti Dove ha dato lavoro A un sacco di persone Benissimo Benissimo Sì Ha dato tanti Ci mancherebbe altro Che non Voglio dire Ma questo Non mi fate fare L'avvocato di Amazon Ma lo stai facendo Ma lo stai facendo Io non ci vedrei Assolutamente Niente di strano In una tassa Amazon Una tassa Amazon Sul fatturato Che però Non deve andare Nel bilancio pubblico Deve specularmente Andare A ridurre A ridurre Le imposte Di tutti i commercianti Perché qui dobbiamo Abbiamo una necessità Di mantenere Una tassa di scopo Una tassa esattamente Di scopo Che lo Stato Neanche la vede Cioè Lo Stato Nemmeno la vede Perché spesso e volentieri Amazon Vende anche La merce Dei commercianti Che si sono affidati Ad Amazon E si sono Per avere una vetrina globale Esattamente Esattamente Quindi Su questo punto Cioè Amazon È un pesce cane Toyota BlackRock Che vogliono investire In Italia Facendo delle centrali Sono delle balene Vanno trattati Un po' diversamente I pesce cane E le balene Vi prego Due interventi rapidi Il dramma Che devo dare ragione A Dragone Ma su tutto Ma su tutto Ma su tutto Allora Che vuol dire Allora Come distingo Come mi relaziono Con un pesce cane E una balena Facendo quello Che non ha fatto Questo governo Devo dire Neanche i precedenti Cioè Attivando le condizionalità Con le multinazionali Che siano baleno Pesce cani Tu devi relazionarti Chiedendo delle cose In cambio di quelle che dai Cioè Vieni Investi in Italia Stanno parlando Di chiamare un nuovo produttore Dell'auto Bene Ma deve venire Ma deve venire a produrle Le auto Non ad assemblarle Cirise peraltro Chiunque esso sia Lui deve venire E garantire L'occupazione E la produzione In cambio Di ciò che gli daranno Diesel e benzina Non l'hanno mai fatto Ma l'abbiamo in capitolo Gli regalano a pioggia E questo Regala L'autorevolezza Con cui Ci tiene un momento A piacere Che lo prendono in giro Perché quando non fai questo Non sei autorevole Allora si vede Il duetto Stellantis Governo Meloni Che è ridicolo Anche se Insomma Da questo governo Devo dire Da più di un ministro Sono arrivate Parole molto dure Nei confronti Di fare L'importante È che le parole dure Abbiano a seguire Fatti E autorevolezza Condizionalità Diceva Tibaldi Sì Alle grandi multinazionali Però lì dobbiamo Sempre ragionare Sullo scacchiere Geo economico E geostrategico Se gli metti Troppe condizionalità Non vengono a fare L'investimento Cioè bisogna essere Molto attenti Non è la verità Bisogna essere equilibrati Per due motivi Il primo è che Noi abbiamo i paradisi fiscali Anche all'interno Dell'Europa Dell'Europa E anche all'interno Dell'Italia Sì Un dipendente Che prende 50 mila euro Paga 1500 euro In più di tasse Se vive a Roma Rispetto a Rimini O Pavia Però posso interloquire Per farle un esempio Però dovrete essere velocissimi Perché le imprese Non vengono Perché hanno convenienze fiscali Le imprese vengono Perché sono interessate A quote di mercato Marchi Faccio un esempio E anche alla mano d'opera italiana Esatto Wirkula americana È venuta qua Per prendere i nostri marchi In desica Avevamo inventato Se ne va Per cede ai turchi Ma se ne frega Di qual è il sistema fiscale Stiamo parlando di balene Se parliamo invece di pescecani I pescecani sono difficilissimi Da intercettare Per due motivi Il primo perché hanno residenza fiscale Da un'altra parte Ierlanda piuttosto che in Europa Due velocissimamente Perché hanno un sistema di costruzione Di bilancio Dove in realtà L'utile è sempre piccolissimo Perché a loro Non gli interessa Quell'utile lì Perché loro I soldi per gli investimenti E per tutto il resto dei costi Lo tirano fuori dalla borsa Perché sono proprietari delle reti Sono le capitalizzazioni Quindi o gli fai pagare Un abbonamento a monte Invece di farlo sul fatturato Gli fai pagare un abbonamento Una tassa d'ingresso Vuoi il mio mercato? Devi pagare una tassa d'ingresso Allora questo Come se fosse un tazio Questo l'abbiamo visto con la web tax Questo è il lodo dei A L'abbiamo visto con la web tax Che non è servita a niente Ha portato pochissimo No, però la web tax È anche da livello europeo Anzi non solo europeo È sulla base imponibile La web tax Tu lì fai un calcolo L'approssimativo E gli metti un dazio L'ipotesi potrebbe essere Siccome vendere in rete È di per sé anche più semplice Perché hai delle catene Del valore molto ridotte Sì Voglio dire Un'ipotesi potrebbe essere Ad esempio Differenziare l'aliquota IVA Perché mi sembrerebbe giusto E destinare quel getto Guarda che è la seconda volta Che la tua base è la cosa Al commerciante Cioè Gli va Cioè Proprio deve essere Una redistribuzione Amazon Commerciante Anche questa Perché c'è anche ora Un'altra cosa Velocissima Queste piattaforme Se il commerciante Vuole vendere O si affida Alle prime 20 piattaforme O non vende Paga solo Sì sì non c'è dubbio Quindi Allora vi faccio vedere Come riflessione finale A proposito di Big Tech Di multinazionali C'è un rapporto Guardo Tibaldi Perché sicuramente lo conosce Dell'ITUC La Confederazione Sindacale Internazionale Che è un rapporto Che è durissimo Nei confronti Di alcune aziende multinazionali L'accusa è che minano La democrazia Guardate Certo Ok Control A Control X Control L'accusa non è di poco conto Amazon, Tesla Meta ExxonMobil Blackstone Vanguard E Glencore Non sono solo attori dominanti Nel mondo dell'economia globale Ma minerebbero la democrazia In tutto il mondo L'accusa è contenuta In un rapporto Dell'ITUC Confederazione Sindacale Internazionale A cui sono affiliate Anche CGL Cisle Will Il rapporto sostiene Che alcune delle più grandi aziende Al mondo Rappresentano vere e proprie minacce Alla democrazia Perché offrono Sostegno finanziario A movimenti di estrema destra O a leader che violano I diritti dei lavoratori L'attività dei sindacati O si oppongono A provvedimenti Per contrastare La crisi climatica Per quanto riguarda Amazon Ormai quinto datore Di lavoro più grande Al mondo L'azienda Si legge nel rapporto E diventata famosa Per la sua lotta ai sindacati E per i bassi salari In più continenti Per il monopolio Nel commercio elettronico Le enormi emissioni di carbonio Attraverso i suoi data center L'evasione E le attività di lobbying A livello nazionale E internazionale A sostegno di queste Conclusioni Si citano Gli alti tassi di infortuni Di Amazon Negli Stati Uniti Gli sforzi In Canada Per modificare Le leggi sul lavoro Il rifiuto di negoziare Quei sindacati In Germania Un po' come la Tesla Di Elon Musk Che ha ingaggiato Una dura battaglia Contro i sindacati In Svezia Dove il personale Delle officine Seguito dai lavoratori Di altri comparti Ha scioperato Perché il multimiliardario Si rifiutava Di firmare Un accordo collettivo Su paga e orari Grande sostenitore Di Trump Amico di Meloni Del presidente argentino Milei Il magnate sudafricano Si è sempre opposto Alla sindacalizzazione Glencore La più grande compagnia Mineraria al mondo Per fatturato È stata inclusa Nel rapporto Perché è accusata Di finanziare campagne Contro le comunità Agli attivisti indigeni Blackstone La società fondata Da Stephen Schwarzman Sostenitore di Trump Viene citata Nel rapporto Per il suo ruolo Nel finanziamento Di movimenti politici Di estrema destra Anche se il colosso Dei fondi di investimento Ha respinto le accuse Sostenendo che eventuali Contributi dei suoi manager Sono a titolo personale ExxonMobil È accusata Di finanziare La ricerca scientifica Che nega Il cambiamento climatico E per aver esercitato Pressioni contro le normative A difesa dell'ambiente E poi c'è Meta Big day social media Accusata Di permettere Alla propaganda E ai movimenti Di estrema destra Di utilizzare Le sue piattaforme Per ottenere sostegno Negli Stati Uniti E all'estero Ora è il momento Delle strategie Internazionali E multisettoriali È il messaggio finale Del rapporto Perché queste multinazionali In molti casi Sono più potenti Degli Stati E non hanno alcuna Responsabilità democratica Era una riflessione Che lascio Ai nostri telespettatori Se volete Ho bisogno proprio Di un telegramma A testa Fabio Un telegramma Allora Giusto per farvi capire Il mondo Amazon Riccardo Ruggeri Che è uno Insomma Un manager Di livello Calcola questo Che il turnover Del personale In Amazon È il 3% Alla settimana Quindi vuol dire Che in nove mesi Amazon Ha cambiato Tutto il suo personale Cioè Rendiamoci conto Che mondo è Amazon Sì Ti balli Sui governi Hanno vinto Questi grandi maestri Hanno già vinto Ma devono Non sottovalutare L'intelligenza E i lavoratori Noi andremo Verso uno sciopero generale Ci stiamo organizzando Per mobilitare i lavoratori Almeno a livello europeo De Luise Parlavamo prima Del potere d'acquisto Delle famiglie Vediamo Se abbiamo I lavoratori Strizzati a quel modo Il potere d'acquisto Non aumenterà mai De Iana Velocissimo Ancora una volta Concorrenze Normative Antidrust Quando Le sette famose Sette sorelle Del petrolio Del petrolio Erano le figlie Dello spacchettamento Della standard oil Di Rockefeller Che era il primo E unico Produttore mondiale Di petrolio All'inizio del novecento Se non li metti Sotto normativa Antidrust Diventeranno Sempre più grandi E sono già più potenti Della maggior parte degli stati Così chiudiamo Grazie Per questo bel dibattito Aperto E spero Pieno di stimoli Sui temi di oggi Vi auguro Buona domenica Ci vediamo Lui di stesso luogo Stessa ora Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti